Belli de mamma, ma come vanno? Come vanno? Bentornati su questo server 3 con Day are Billions Un gioco a cui praticamente volevo giocare ormai Cioè avevo proprio la voglia dentro di giocare, lo so Non si dice aveva una voglia dentro ma Era proprio per me imperativo Provare a giocare a Day are Billions Perché avevo proprio voglia di Day are... Oh, che cosa ho trovato? Un altro uomo Nel mentre sto facendo uno spuntino Devo costruire le case Sto facendo molto lentamente già Perché non è probabilmente bello Non si parla di scoperta Bello Tanta roba È piazzato in un posto de merda, eh Fatelo dire, ma... Attention Allora, serve una segheria Allora, una segheria La potremmo già mettere qui forse Ok Una segheria Arca troia, la possiamo mettere qui perché Non ce la fa arrivarci la cosa Non ci credo Allora, nel mentre io la metterei a questo punto La cazzo dei cane Sì, dai, mettiamola qui It's better be good It's better be good Ready and waiting Yeah Vediamo un attimino Segheria e cibo Ok Io Penso sia opportuno andarsi a vedere Gli altri gameplay Ok Allora, ragazzi Almeno vi danno un'idea 11 12 Poi l'altro lo posso mettere qua Quindi devo arrivare Devo arrivare Qui Devo metterlo per forza qui E l'altro Merda No, 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 no Nulla Merda Ho sbagliato Questa puttana E' questa Barracca nera E' una brutta troia C'è un futuro Allora Qui si può pescare E si può pescare Abbastanza bene Un altro Capanno di pesca Poi Lo potrei mettere Tipo qua 13 13 13 Così Capanno la caccia Invece Per adesso Devo costruire Una miniera Un'altra miniera Non devo dire Sto andando molto All'iremza Oh Una miniera No Qua 5 Vabbè dai 4 Mettiamo l'acqua Per adesso Vorrei Oh Pescare altrove Tipo qui O Nelle mentalità Proprio qui Che ne pensate Pronto Qui non posso mettere Un'altra No Qui Potrei Metterla Qui E poi Un'altra Tipo Metterla Qui Si Potrebbe Essere Un'idea Ok Questo Perfetto Questo Smazza Quello Devo costruire Altre Torri Di Babele Tra le altre Cose Io procederei Da questa Parte Qui Capanno Di Pesca Bisogno Di Altre Casupole Allora Le Casupole Tipo Questo Non ce ne frega Un caso Se le mettiamo Qua altre case Che sono Abbastanza Difese No Giusto Tipo qua Sigheria Mancano Quattro Lavoratori Che appena Finiamo Questo Possiamo Attivarsi Capanno Ragazzi Fornito Centro Di Comando Vai Dovremmo Andare Più Tre Andare Bene Qui Possono Passare Perfetto E adesso Vorrei Costruire Sulla Pietra Ma Qui Non ci Posso Arrivare No Decisamente No Quindi Devo Per forza Di cose Costruirmi Uno Di Stirobby Ma Per forza Lo faccio Qui Ok Sono Abbastanza Protetto Voglio capire Che cosa C'è Qui Mi piace Molto Questa Zona Oh Merda Qua Devo Costruire Delle Mura Assolutamente Andiamo un attimino Qui Che c'è Un'altra miniera Quindi E porca Troia Qua ce ne potremmo Mettere Tre Tre Qua Quattro Così Posso costruirne Una qua E una qua Questo ne prenderebbe Due Però Poi C'erano Più Lavoratori Per forza Di cose Dobbiamo andare A fare Roba Di villette Giusto Qua Questa zona Poi la Chiuderemo Magari Questa La metto La potevo Spostare Qui Sono Un Pirla Quindi Niente Lavoratori Ci siamo Ottimo Allora Questo è Strautile La vorrei Nascondere Però In un posto Abbastanza Tranquillo Che ne esiste Qua il posto Tranquillo A questo punto Lo mettiamo Qua Perché Tanto Non possiamo Diciamo Costruire più niente Da sto lato Abbiamo finito Gli slot Gli slot Abbiamo uno slot Qui Favano delle costruzioni Di merda Compulsivamente parlando Sono veramente Pessime Questo sta qui Andiamo a vedere Che c'è Di qui Vado a far dare Una mano A questa Ok Ok Questo appena arrivo A questa parte Ok divertitevi voi Oh oh Guarda questo Guarda questo Che sta passando Lento 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 Da qua Ok Allora Le villette Assolutamente E immediatamente Le villette Dobbiamo Oltremodo Costruirci C'è 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 Un posticino Dove Metterlo Qui Ok Difesa Tra le altre cose Abbiamo pietra Abbastanza messi bene Magazzino Magazzino Un bel po' Un bel po' A rilento Ma Ok Questo lo mettiamo qui Vorrei mettere Una torre di guardia Anche qui Oh grandioso Cibo Energia Legno Perfetto Questo si sta costruendo Oh Merda 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 Oh ma dove vai Lo devo fare Inseguire Madonna Madonna Sto arginando Ok Ok Madonna Ragazzi Ok Riparatevi Ok Qua Devo assolutamente Ripristinare Sto robo Mamma mia Mi sono cagato sotto Mi sono cagato sotto Fattoria Mercato Tagliapied Quei zii Eh Trappola Pali Taverna Balista Grande Cecchino La balista Grande È tanta Robba Non so se Vale la pena Farla adesso Ma Ok Dobbiamo Arrivare Al giustiziere In qualche modo Tra le altre cose Potremmo addirittura Metterci Una porta Qui Che poi Come cazzo Si giravano le porte Perché non ho ancora Imparato come si girino Le porte Secondo voi Non so Bravo Bene Ora L'ultima Ci permetterà Praticamente Di lavorare su tutta questa zona Guarda Spostruz da me Ok Abbiamo trovato una balista grande Facciamo una fattoria Ok Tra le altre cose Io Ma giusto per Come si dice Per scrupolo Non la metto qua Non lo so che non ancora mi costruisco Ballista Vedi Oro Legno 20 Il legno ce l'abbiamo E lavoratori 3 Però La balista Ci permette Se io lo mettessi Tipo Tipo qui Potrebbe essere Anche se In effetti Io ho paura Di questa roba Qua Magari qui Riusciamo a bloccare Tutto Io ce la metto Una balista Giusto per scrupolo Qua ce ne metto uno Tu e se vai a scappare Ok Canto ci vuole Cinque lavoratori Va bene Perfetto Adesso cominciamo a fare Praticamente Solo villette Che ci portano Più lavoratori E continuiamo con Le varie Miniere Sigeria Cazzi e mazzi Ok Sembra una cosa Abbastanza Abbastanza Buona Legno 20 Quello si arriva Ok Forse sto raggiustando Il giustiziere Che mi da Una tranquillità Immensa Il giustiziere E tanta roba Ora Siamo messi Abbastanza Tranquillità Fattoria Fattoria Mi piacerebbe Cominciando a mettere Qualcuna Tipo Noi siamo Abbastanza tranquilli Attorno a questo Ma Purtroppo Purtroppo Se partono Se partono Se partono partono Non c'è un cazzo Da fare Perfetto 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 Mettere uno qua E uno qua Tanta roba Questo lago Alimenta Praticamente Tutta la città Allora Poi Qui Possiamo spingerci Più in avanti Qui ci possiamo Spingere Più in avanti E Qui ho finito I soldi E ci manca Altre cose Saliamo Le varie ville Sto consegnando Questo gioco A tutti Che tanta roba Per quanto mi riguarda Allora C'ho poco oro In effetti Un'altra villetta La pescheria La mettiamo Un'acqua Perbace Dobbiamo fermare Però Dove cibo Insomma Dovremmo essere Particolarmente Tranquilli Nel momento In cui Il problema Mi manca loro Mi manca loro Energia Manca pure energia Cioè Questa parte qui Deve essere Tipo Chiusa Al traffico Quindi Questo è attivo Perfetto Se mi servirebbe Ah però No Non posso Fare più niente Per questo Allora Se ho perduto qualcosa Dall'attacco Dei giganti È che Nell'eventualità Si può Ragionare Allora Io come cibo Dovrei essere Messo Quasi tranquillo No Cazzo A ste parti Però Sai che è Tanto Mi allungo Mi allungo Mi allungo Mi allungo Questa torre è radar La facciamo riparare Perché non mi ricordo A cosa servisse Allora Purtroppo Questo ha quattro coloni Questi otto Sono molto curioso Di vedere Cosa succederà Oh wow Minchia Allarga Ma il radar Fa un macello Allarga Una parte Grossissima Di maffa Wow Qualcuno Dovrei farlo Arrivare qui Extra Wow Mamma mia Allora Qui Ci potrei Costruire Delle fabbriche E chiuderle Nelle mentalità Ma è arido Quindi non si può Fa niente Ok Finito il cazzo Di soldi Purtroppo Senza soldi Non possiamo Costruire Assolutamente Nulla Oro 10 Pocca roba Però Cado Può comprare E vendere i soldi In una domanda Necessi derivanti Oh Tanta roba Allora Perché non l'ho scelto Prima Questo Aspettiamo Allora Dobbiamo solo Attendere Eh Dai sto Dove Dai Guarda Ma io Non ho Risorse Non ho Difesa Non so Dove È Ok Beh Ho finito Qualcosa Allora Quanto ci vuole Questo Lavoratori Non ne ho Bene Allora Abbiamo un grosso Problema Perché da est Non so da est Dove cazzo Vengono Da questa parte No Di qua Da destra Male Di qua Ok. dobbiamo arruginare la situazione ok basta tutto qua era ok sono caccato sotto allora sono veramente caccato sotto ok Perchè non leggo mai? Ok Mamma mia, mi sono caccato sottissimo Il mercato, posso crearlo? Il mercato Ok Mi sono caccato sotto Ragazzi Io adesso mi fermo un attimo E ci vediamo al prossimo gameplay